poi caro valdo tu saprai bene che io a giorni festeggio i miei 50 anni e nell'occasione farò una festa molto importante verrà il generale dei carabinieri verrà il colonnello della finanza l'ammiraglio l'ammiraglio della marina ci sarà molta confusione perché capirai sono quasi 280 invitati sapete che va a combino una casa uuuu metterà la casa sotto i coppi e appunto mi serve mi occorre necessariamente due uomini due uomini un carabiniere pronto e intelligente è un uomo che faccia la manovalanza i servizi da casa aldo tu sei con me certamente marescia bravo ma mi serve soltanto il carabiniere pronto e intelligente